io dico buongiorno innanzitutto ben trovati dico che vi stiamo portando una pietanza in tavola vista l'ora ma anche se ci vedete in replica notturna va bene lo stesso che è la migliore che possiate immaginare è fatta di amore solidarietà coscienza e conoscenza ad un punto della propria vita di quel voler fare qualcosa di completamente diverso ho chiacchierato un attimo fa insomma mentre aspettavamo di andare in onda e lui è veramente una persona bella e speciale carlo mazzola che ha preso una decisione meravigliosa di quelle che rivoluzionano tutto ma prima no la diciamo la diciamo prima questo non possiamo cioè lei è passato dalle tavole e dalle cucine anzi più importanti del mondo come chef e se non mi faccia il timido è lei non io la grande chef e a un certo punto della sua vita ha detto basta da oggi cucino per gli per i cosiddetti ultimi sì ovvero poveri diciamo sì per per chi non è stato così fortunato diciamo per gli immarginati per chi ai margini della società cioè lei è un grande chef che oggi cucina in quale cucina io cucino per la fondazione caritas di firenze la svolta è stata possiamo che dire una data il 19 marzo 2020 quando sul gruppo sul nostro gruppo whatsapp dell'associazione cuochi fiorentini apparve una un annuncio un annuncio abbastanza drammatico in cui la caritas chiedeva aiuto chiedeva aiuto perché le mense della caritas non ce non ce la facevano a reggere l'onda d'urto di tutte queste persone che si trovava si sono trovate improvvisamente in difficoltà in seguito alla alla pandemia ci ricordiamo che tutti i ristoranti sono stati chiusi gli alberghi chiusi e c'è stata tantissima gente si è ritrovata da un momento all'altro senza lavoro e e quindi molti cuochi sono andati a dare una mano tra i primi devo dire ci sono sono andato anch'io ho portato molti miei aiutanti molti miei amici e alla fine ci siamo ritrovati qua oltre i 50 cuochi li alla mensa caritas a lavorare a dare una mano a fare i volontari uomo cattivissimo lei è proprio una persona di quelle che sa chers dickens con lei ci avrebbe inzuppato il biscotto nel tè proprio proprio di quelle cose buone che si si mangiano con piacere questo signore che sta entrando nelle vostre case vi sta parlando negli anni 90 apre quattro ristoranti due a tokyo e due in california uno si uno a los angeles uno a newport beach sempre a sud di los angeles e due in giappone e due giappone si avevamo aperto il cibreo famoso cibreo del del povero compianto fabio picchi è morto all'inizio di quest'anno che penso tutti conoscono e a ecco questa è una foto si del cibreo di tokyo vedere al centro c'era c'era lo chef giapponese poi ci sono io e questo era il mio amico che mi sono portato la mia spalla che mi dava una mano paolo gagliardi lei dopo aver fatto il giro del mondo letteralmente e provata ad immaginare questa situazione no cioè luoghi dove lo chef questa è la cucina di invece fabio questo si chiamava fabio da noi fabio picchi a los angeles con i cuochi messicani con i cuochi messicani rientrato in italia lavora in diversi ristoranti stellati di firenze lavora in svizzera ha lavorato sulle navi due tre anni sulle sulla roya prince navi da crociera cioè lei lei ha avuto ea al suo attivo una vita da chef di quelle che noi siamo abitati e non avevano tempo per farsi bagno in piscina per darvi la foto è sul ponte davanti alla piscina della serie questa la vedete e non potete assolutamente frequentarla e poi ad un certo punto lei ha lei ha fatto un conto di tutte le cose che nave e tutte le cose belle ricevute l'epoca questa era la nave più grande del mondo la 250 metri di nave si passava appena appena dal canale di panama e lei da tutta questa esperienza da questa vita che si è stressante difficile è complessa ad un certo punto lei ha detto c'è qualcuno che può avere più bisogno di me se diciamo ripeto la colpa tra virgolette la chiave di volta è stato il covite è stato questo momento in cui penso più o meno tutti si sono fermati un attimo a riflettere no volenti o nolenti e io mi sono sentito chiamato diciamo mi sono sentito diciamo dare una una mi hanno mi hanno non so come dire non ho potuto non ho potuto tirarmi indietro non mi sono potuto tirare indietro ecco è stata è stata una chiamata a cui non ci si poteva assolutamente non ci si poteva negare ecco e non tutti l'avrebbero fatto lei lo sa forse no però io devo dire che tantissimi sono venuti a fare i volontari gente che veramente si è spesa non sono stato solo io io ho poi avuto la fortuna di andare avanti di essere accolto nella famiglia caritas diventare amico del direttore della prima della mensa poi del direttore dei progetti il dottor mori e il quale mi ha coinvolto nel corso di questi paio d'anni con cene con situazioni con cene di raccolta fondi e quindi mi sono un po insomma dato da fare in questo senso sempre come volontario e poi alla fine è arrivata anche questa proposta di lavoro e quindi alla fine ho accettato di andare a lavorare per loro ecco tra un istante istante che il profumo di bontà è già entrato ecco questo è mattia marinai che il direttore della mensa principale della caritas di via baracca la mensa dove andavamo a fare i volontari dicevo il profumo di bontà e la bontà quella buona quella vera autentica è già entrato nelle vostre case a ragione a ragione mazzola dice io non mi potevo tirare indietro e su cui non mi potevo che si basano le persone eroiche le persone capaci di fare quello che altri non farebbero le persone che hanno una tale forza da essere poi calamite per tanti altri ne parliamo tra un attimo assolutamente al dente allora solare perché lui un uomo al dente ma ve lo spieghiamo tra poco grazie brilla l'ora solare la stella dello chef carlo mazzola che si prende tanti di quegli applausi che neanche se li immagina allora dai ristoranti stellati alla mensa della caritas oggi lei prepara circa quanti pasti al giorno allora io sono stato messo a gestire la mensa di una casa di una di una casa che si chiama la casa di san paolino che è un si trova intanto si si trova proprio al centro vicino alla stazione di santa melenovella di firenze a pochi passi dalla stazione è una diciamo grosso un grosso modo un palazzo di quattro piani ogni ospitiamo circa una novantina di persone con delle diverse problematiche difficoltà sono quattro piani ogni piano destinato a un progetto quindi abbiamo le donne l'ostello donne quindi donne da sole che arrivano da varie problematiche primo piano donne con bambini e sul primo piano c'è anche la cucina centrale di tutto il mio regno diciamo poi primo piano ostello uomini di uomini da soli ultimo piano la l'rsa diciamo la residenza per anziani e quindi noi cuciniamo prepariamo per tutti i vari piani ogni piano la sua saletta mensa dove mangiano noi invece serviamo direttamente dalla cucina le donne con i bambini che sono residenti lì al piano al primo piano che effetto meraviglioso fa riempire quei mestoli o quelle o quelle fare preparare quelle verdure guarda io ho avuto una è un anno praticamente che lavoro fisso lì in questa in questa casa questa struttura al san paolino che è un ambiente veramente straordinario per le persone che ci lavorano per le persone che con cui ho avuto che fare che ho conosciuto perché poi è un è un ambiente di passaggio diciamo non è un è un ambiente residenziale ma è un primo approdo diciamo per le persone difficoltà che poi vengono smistate una brutta parola insomma vengono mandate in altre magari strutture più particolari o dove possono essere trattate magari un pochino meglio no queste questo soprattutto le famiglie con bambini lei lei è proprio lei è proprio un uomo che ha fatto arrovesciato la frittata dall'altra parte lei mi sta parlando delle persone certo io continuo a chiederle di di mestoli di pasta al pomodoro e lei mi parla no 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 accoratamente delle persone questo è un cambio di menù perché noi li abbiamo la legale signor mazzola e noi li abbiamo visto cioè le i bambini nascere abbiamo visto i bambini crescere e quella è una è diventata una specie di famiglia allargata no per per tutti noi che lavoriamo lì dentro e poi noi abbiamo come base la nostra filosofia di base è l'accoglienza con la fatta con la buona tavola col buon cibo perché lei al buon cibo sta molto attento e beh certo noi dobbiamo anche col con gli ingredienti tra virgolette poveri sì perché non purtroppo non ci possiamo per me se io le dico qual è il mio budget per un pasto si spaventa il budget per un pasto posso dire la prego circa un euro e venticinque persona noi facciamo i miracoli veramente non sto scherzando noi si fa veramente dei miracoli perché non le credo abbiamo purtroppo ora solamente un 10 per cento di quello che è la materia prima offerta diciamo regalata tutto il resto dobbiamo comprarlo purtroppo le 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 donazioni sono calate molto e qui se posso anche fare un appello visto che siamo in televisione cioè veramente cioè la la caritas che la fondazione caritas in firenze offre alla popolazione disagiata della città sui 1600 pasti al giorno e si fa sempre più fatica a trovare a trovare la materia prima a trovare riempire il carrello della spesa e quindi siamo continuamente a fare campagne di fundraising di raccolta fondi di ci facciamo di tutto noi ci fidiamo molto dei nostri telespettatori e speriamo in questo caso geograficamente parlando dei telespettatori che sono nella zona di firenze essendo certi che anche semplicemente con un passaparola si possa far arrivare a questa questa casa la casa famiglia san paolino e comunque alla caritas di firenze tanto aiuto senta scusi posso dire una cosa ecco questa è una cena che abbiamo fatto poco tempo fa la cena fondazione proprio per omaggiare i grandi donatori della caritas cioè noi come caritas abbiamo invitato le aziende soprattutto risotto sì perché è venuto lo chef della fiorentina calcio duccio pistolesi e ha preparato apposta per questa serata questo risotto con una polvere di patata viola poi passata attraverso una uno stampino e il col simbolo di fiorenze sentite le ricette della solidarietà sono un menù ideato da sei chef figliorentini per questo progetto proprio la spesa che vale ma vale anche nel tempo noi possiamo sostenere certo certo c'è su facebook c'è dappertutto questa possibilità di riempire il carrello spesa della della fondazione mazzola io non so che quello quali che uomo lei fosse prima eccolo qua le ricette della solidarietà intanto fondazione caritas www fondazione solidarietà caritas solidarietà senza cento punto it per tutti coloro che volessero dare una mano o i miei amici toscani adesso quando ho finito la trasmissione partono delle telefonate che loro lo sanno io sono un soggetto pericoloso da questo punto di vista e e me la regala la caponata invernale in agrodolce abbiamo anche scritto la ricetta sì questa è la ricetta che abbiamo portato per questa serata e eccola qua sì cipolla bianca praticamente si fa la cipolla la cipolla fine fine a julienne si direbbe no rosolata in olio e si mette il cavolo cappuccio tagliato a pezzi più o meno grandi e si fa brasare sarebbe opportuno fare due cotture cioè il cavolo bianco da una parte il cavolo viola da un'altra perché sennò poi dopo si perde l'effetto cromatico perché poi si mi viene un mischione come farei io per esempio invece con due cotture poi il colore si mantiene l'importante è aromatizzare molto no alloro ginepro chiodi di garofano poi si bagna con aceto e buona con vino bianco noi qui non abbiamo potuto buonare con vino bianco perché per via dei nostri ospiti musulmani certo perché queste sono ricette che comunque facciamo anche alla alla nostra alla nostra mensa certamente e c'è ovviamente ma questo insomma lo ricordiamo fin dai tortellini con il ripieno di pollo no se non ricordo male insomma questa è una forma di rispetto io le ringrazio immensamente di essere stato con noi lei non ha solo cambiato vita lei ha una luce negli occhi mi creda che da solo fa gruppo elettrogeno quindi grazie carlo mazzola grazie mille volte grazie per essere la persona che grazie veramente grazie di cuore